Torna la Val Malenco Val Poschiavo, si tratta della Sky Race che unisce due valli di confine tra Italia e Svizzera e si terrà domenica 20 agosto, dieci anni dopo l'ultima edizione. Una competizione che in pochi anni, dal 2002 al 2013, era entrata nella storia della corsa in montagna e nel cuore degli atleti per la bellezza del tracciato, disegnato su quello che anticamente seguivano i contrabbandieri durante le guerre. La Sky Race era stata presto promossa a livello internazionale, tanto da essere inserita nel circuito della Coppa del Mondo di corsa in montagna. Una gara e due valli per atleti veri, 30 km da Lanzada a Poschiavo, con arrivo previsto nella piazza comunale. Dai 972 metri di Lanzada, gli atleti saliranno fino ai 2627 del passo di Campagnida, per poi scendere ai 1014 di Poschiavo, dopo aver percorso 30 km con 1800 metri di dislivello. Dieci anni dopo, a cambiare solo la data, da giugno ad agosto, non il percorso nello spirito che anima gli organizzatori della sportiva Lanzada e della sportiva Palu di Poschiavo. Da qualche anno i promotori delle prime edizioni si parlavano per valutare l'opportunità di riproporre la Sky Race. La decisione era stata comunicata l'estate scorsa in occasione della Glacier Trail. Era stato il presidente della sportiva Lanzada a Serafino Bardea ad annunciare che dal confronto con Dario Marchesi, presidente del Comitato Svizzero, era emersa la comune volontà di riproporre la Val Malenco-Val Poschiavo. La gara è aperta a uomini e donne con numero massimo di concorrenti a 350. La data scelta per l'apertura delle iscrizioni e il 9 aprile, il giorno di Pasqua.